Signor Giuffetto, nel 2002 inizia a collaborare con la giustizia con la Procura di Palermo. Ricorda, se prima di iniziare nel periodo immediatamente precedente alla sua collaborazione, cioè tra il suo arresto e l'inizio della sua collaborazione, lei ha mai subito pressioni da parte di personale dell'amministrazione penitenziaria? Pressioni, minacce per non collaborare? Non riesco, perché ho qualche problema di udito. Le chiedo? No, no, in linea di massima diciamo che ho capito. Le pressioni, io quando sono stato arrestato sono andato a Termini Merese, poi successivamente sono andato a Novara con il 41 bis di richieste ufficiali a non collaborare, non ne ho avuto. Cioè non è venuto mai qualcuno a dirmi di non collaborare. Ho avuto cose, diciamo, più grave, nel senso che quando era a Novara il primo periodo, mi sono state date prima un sacchietto per la spazzatura che era in quella circostanza, mi sono state date prima di un agente penitenziario, mi è stato detto questo esplicitamente, ci metterlo in testa. Ho fatto il cretino, ho fatto il cretino, ho fatto il cretino, non capire, ho preso il sacchetto, l'ho messo... Scusi Gioffre, ma generalmente vengono consegnati sacchetti forati ai detenuti? Sì, perché nella massa vengono sempre tutti forati, in quell'occasione invece era intero, forati perché on deve evitare appositamente che non si potesse fare arregare danno a si stesso soffocandosi. Questa secondo me è la spiegazione per cui erano forate. Finita questa situazione io ho continuato tranquillamente, ho fatto vinta di non capire, dopo una quindicina di giorni la storia si è ripetuta di un uomo, un altro sacchetto è intero. Negli intervalli le sacchette erano sempre forate, in queste due circostanze erano interi, ci mettono in testa, non l'ho messo in testa. Ma era la stessa persona? Sono qua, sempre la stessa persona, sì. Senta, ma lei in quel frangente, in quel periodo aveva fatto capire, aveva chiesto colloqui, aveva palesato questa sua intenzione di collaborare o comunque sia aveva dato modo con atteggiamenti concreti di indurre il personale della Polizia Penitenziaria a ritenere che lei fosse ormai matura per una collaborazione, pronto per collaborare? Avevano e c'hanno una preparazione abbastanza elevata diciamo nel capire la psicologia di un individuo. Loro diciamo che studiavano a me e io studiavo a loro, tanto è vero che nel momento in cui ho deciso poi di fare il passo di collaborare io non mi sono rivolto mai a loro. Allora loro sarebbero chi? Gli agenti della penitenzione. Quindi il GOM? Il famoso GOM, sì. Mi sono rivolto direttamente alla direttrice della carcere e con lei ho instaurato il mio rapporto di collaborazione che poi andò a finire a Palermo al procuratore Grasso. Senta, ma quando lei ha iniziato a collaborare questa circostanza la riferì subito? Ma a me sembra di sì, non ci credo se sia stato subito o subito dopo, ma penso all'inizio della mia collaborazione. Giustamente non era una situazione bella. Poi sono stato trasferito da Novara, sono andato a opera. Diciamo che mentre ero là c'era poi una lotta psicologica diciamo a notte per non fare dormire. Lo stesso poi era successo in seguito anche a opera, diciamo un certo attacco psicologico a non fare dormire, a tenere in pressione. Lei ha avuto mai contrasti diretti, diciamo, per certa rilevanza con il personale dell'amministrazione penitenziaria successivamente a quei fatti, ai fatti dei due sacchetti che gli furono consegnati? No, io nel momento in cui successivamente ho iniziato a collaborare riferivo tutto all'autorità giudiziaria, in modo particolare a Grasso, a Pressepino, a Lari e altre di cui io ero in contatto sempre. Ma lei ha fatto mai colloquio investigativi prima o durante la sua collaborazione? No, ho iniziato con la magistratura e ho continuato sempre con la magistratura. Qualche colloquio che ho fatto con l'autorità investigativa è avvenuta la presenza dei magistrati. Va bene, senta, le chiedo, ovviamente non devi fare la storia che a lei ha già riferito nel corso dei processi, soprattutto del Capaci Bis, del Borsellino Terra, perché c'è una sentenza che ripercorre perfettamente i vari passaggi della sua collaborazione. Quindi le faccio domande che riguardano innanzitutto i suoi rapporti con Provenzano. Se ci vuole, insomma, ricordare come nasce il rapporto con Bernardo Provenzano. I rapporti con Provenzano iniziano all'inizio degli anni 80, 81, 82, così via di seguito, poi successivamente. Iniziano quando, come ho detto, era il Capomandamento, il Capofamiglia, Lentile Francesco. Come ho detto, io accompagnavo il Lentile nell'Eso Unione. In questa riunione, in questi incontri, avvenivano principalmente lo stesso Lentile con il Provenzano e avvenivano a Bageria. Così io ho conosciuto prima il Provenzano e in qualche circostanza anche l'Eso Unione e il Rina Salvatore. Senta, ma lei quando entra, lei ha detto poi, diventa il Capomandamento di Gaccamo, nel 87, ho capito bene? Io entrerò in contatto direttamente, ufficialmente, con Salvatore Rina e con gli altri membri della commissione, se ne ho ricordo male, attorno all'87. Ecco, lei era legato ad entrambi i due, diciamo, attori principali, i due corleonesi, cioè Rina e Provenzano? Aveva uguali rapporti, aveva uguali contatti con i due? Io sono, il mio maestro, diciamo, tra virgolette è stato il Provenzano. Dall'84 circa, dopo l'arresto del Cuzzino, io ho portato avanti, diciamo, in forma ufficiosa, il mandamento di Gaccamo e i miei incontri avvenivano ufficialmente con il Provenzano. Fino, come ho detto, all'87, quando lo stesso Provenzano mi ha detto che ora andavo ad incontrare il Salvatore Rina, che era il posto che mi aspettava, però, nonostante tutto, diciamo che io ho continuato da sempre ad avere incontri con il Provenzano, anche dopo l'arresto di Rina, diciamo che il punto di riferimento mio arrestava sempre il Provenzano. Senta, ma invece per capire quali fossero i rapporti tra Rina e Provenzano, c'era una divisione, diciamo, di competenze tra i due, c'era una divisione di influenza in ambiti territoriali, cioè come si coordinavano tra loro nella direzione di Cosa Nostra. È un argomento molto complesso, molto complicato. Diciamo che per quello che sono le mie conoscenze e il mio, diciamo, che ho vissuto direttamente, nella prima metà degli anni Ottanta erano in perfetta sintonia sia il Rina che il Rina con il Provenzano. Tanto è vero che io, come ho detto, nell'Ottantaquattro, il mio punto di riferimento era Provenzano, però automaticamente Rina veniva ad essere informato di me e di quello che avveniva. Provenzano, non so se sia ufficiale o ufficioso, non sono in grado di dirlo, si è occupato di una parte della Sicilia e di cui il mandamento di Caccamo, diciamo che se ne occupava direttamente il Provenzano, diciamo che aveva un'influenza il Provenzano su Caltanissetto, un'influenza molto forte con Madonia e Giuseppe, Pietro Madonia, su Catania, diciamo sulla Sicilia orientale, di contro, anche se il Provenzano aveva incontro per ipotesi, per quello che mi risulta con persone della provincia di Trapane, quale il matrociccio di Mazzara del Vallo, però diciamo che ufficialmente... Francesco Messina, Messina Francesco, si, con il matrociccio detto, diciamo che se ne occupava a tempo pieno di agrigento, di trapane, il Salvatore Rosina in persona, non ho finito, signor Procuratore, questo discorso diciamo che è andato avanti per un certo periodo di accordo. Ora per finire il discorso, questa situazione di collaborazione aperta, leale, diciamo fra i due, dalla seconda metà degli anni Ottanta cominciò ad affievolirsi, ho vissuto che la situazione, diciamo che una incomprensione, è avvenuta in modo particolare nell'87, quando c'è stato il cambio di rotta politico all'interno di Cosa Nostra, mi spiego, nell'appoggiare dei nuovi riferenti politici, e mi intendo riferire, si metteva da parte la democrazia cristiana che da sempre è stata appoggiata da Cosa Nostra, e si appoggia, e c'è stato un discorso pubblico insieme alla Commissione, in questo regione, siamo nell'elezione dell'87, se la memoria non mi inganna, politiche, e sarà appoggiato... regionali forse? prego? regionali? no no, politiche, nazionali, e appoggeremo il partito socialista, martello in primis, e in parte il partito radicale. i due, Salvatore Rino appoggerà questa politica, l'ha ufficializzata insieme alla Commissione, e automaticamente anche alla Commissione regionale. in Camere Caritatis, io e Provenzano, e Provenzano non condivideva questa scelta, dicendomi apertamente a me, a Carlo Greco, a Pietro Agliere, che Totuccio sbagliava, non doveva fare questo passo, ma intanto comandava Salvatore Rino e noi abbiamo eseguito la scelta di appoggiare i socialisti. diciamo che da quel momento in poi i rapporti stradafacendo si sono sempre più deteriorati. prego, signor Provenzano. si, le volevo chiedere questo, lei dice che questa, diciamo, idea, questa non condivisione da parte di Provenzano, di questa idea di Rina, viene partecipata a lei e ad altri, agli eri e Greco. Chi erano le altre persone, gli altri capi mandamento palermitani di cui aveva fiducia, se ce n'erano degli altri? quando parliamo di Pietro Agliere parliamo di Villa Grazia di Palermo, si, e come mandamento, c'era c'era badgeria che in quel momento non faceva più mandamento, ma il mandamento era passato per la a Peppuccio Montalto. Montalto in un primo momento era legato strettamente a Bageria e al Provenzano, successivamente passerà al lato, al Rina. San Mauro Caccia Verde in un primo tempo Farenella era legato a Bageria e al Provenzano, successivamente si è staccato e si è appoggiato al Salvatore Rina. Di altri mandamenti San Giuseppe era Salvatore Rina, Re Suttana eccetera eccetera, cioè allo stato attuale non mi ricordo altri mandamenti. Allora le faccio un'altra domanda al contrario, quali erano i mandamenti più vicini a Rina? Ma diciamo in linea di massima come Palermo la stragrande maggioranza dei mandamenti di Palermo erano legati a Rina in modo particolare i più diciamo i più fedeli erano il mandamento di San Lorenzo, il mandamento del Re Suttana, il mandamento del Passo del Rigano, Bocca di Falco, San Giuseppe Eato, anche Partenico. Diciamo che, per dirla tutta, una grande forza in Provenzano veniva da Bageria come centro, da Madonia e Giuseppe come provincia. Era un legame molto forte tra il Madonia e il Provenzano, che era un legame superiore a quello con Salvatore Rina, tant'è vero che Madonia era la detante spesso a Bageria, assieme al Provenzano. Diciamo che c'era un legame abbastanza forte, automaticamente vi era un influsso notevole di Madonia e Giuseppe nella Sicilia orientale, molto particolare a Enna, dove il Madonia e Giuseppe a Bageria faceva sempre appuntamenti e incontri e a Catania. Diciamo che queste due province erano molto legate, avevano un legame molto forte con il Madonia e Giuseppe e anche con il Provenzano. Ora, se sia per riflesso del Madonia o sia per riflesso del Provenzano, non sono in grado di dare una risposta una risposta precisa. Su Agrigento, per ipotesi, il Provenzano aveva una... era molto quotato, molto rispettato, in modo particolare a Canicattini, nei ferro. Un legame molto, molto forte. Prego, signor Procuratore. Volevo parlare delle stragi del 92 senza ripercorrere quello che lei ha già dichiarato in un processo che definita con la sentenza che abbiamo prodotto. Però le voglio chiedere, brevemente, se... è in grado di riferire al Tribunale... Per favore, un pochino più forte, signor Procuratore. Se può riferire al Tribunale, come si arriva a queste stragi? Cioè, qual è il... che cosa fa scattare la reazione di Cosa Nostra? Ma come ho sempre detto, per quello che ho potuto capire, cioè la goccia che ha fatto... traboccare, come si suole dire, il vaso, è venuta da una sentenza della Cassazione, la sentenza del Banche di Processo, dove diciamo che la sentenza di appello è stata ribaltata, è stata... si è ritornata la sentenza del primo grado del Falcone, il Borsellino, se ne ho ricordo male. e diciamo che questa è stata... come ho detto, cioè, l'ha resa di Conte, perché il tutto era come una pentola a pressione che già era messa sul fuoco antecedentemente, sia per una questione politica, perché se... come... è vero che io ho detto che nell'87 c'è un cambiamento di indirizzo politico dentro Cosa Nostra, sta a significare una cosa sola, che quelle persone che Salvatore Riina accompagna da diverso tempo, ai tempi di Michele Greco, o senatore, eccetera, eccetera... senatore inteso come il fratello del Salvatore di Michele Greco, mafioso di Ciacullo, che Michele Greco, come ricordo a me stesso, era il primaterrino, il capo di Cosa Nostra in Sicilia. Diciamo che quello già è stato l'evidenza che molte persone erano considerate inaffidabili. a partire da Engeotti, a scendere, a scendere, fino ad arrivare a Lima. Tanto è vero che il primo omicidio politico che è avvenuto è stato quello, anche se ce ne sono state altre, meno eclatante, a livello dei sindici, eccetera, eccetera, sul Palermo. Diciamo che tutta questa situazione è venuta fuori per la sentenza, e c'è anche una motivazione. Insieme alla Commissione, nel periodo antecedente alla sentenza della Cassazione, Cioè, in modo particolare, nel periodo dell'appello del Marchessi Processo, aveva detto, il Salvatore Regine, che le cose si mettevano bene. Per quanto riguarda, personalmente, il processo, avevano un sacco di persone imputate, e persone molto vicine allo stesso rino. ci facciamo processendo l'associazione mafiosa, 6-7 anni, e tutto ritorna come prima. Cioè, sottolineo, ha messo la faccia in questo discorso. Torniamo al 91, nella famosa riunione del Natale. La situazione si è capovolta, perché già, nel dicembre, l'Alvatore Regine sapeva che il Marchessi Processo andava malissimo come sentenza della Cassazione. e in quella riunione, come ho detto, si badisco, è stata la più brutta riunione del Natale che io ho fatto. Diciamo, la riunione della resa dei Conti. Salvatore Rina ha dichiarato guerra. a tutti i suoi nemici. Molto particolare, qualcuno è Borsellino che già antecedente a questo discorso se ne parlava già da prima, e quando i politici che non avevano mantenuto il loro impegno. Politici di Lima andò Mannino o Vizzina tanto è una lingua che non è mai finita. Quindi ormai Salvatore Rina era la corda e quindi ha perso la faccia e ha dichiarato questo. Scusi Giuffele, ma c'erano diciamo dei campanelli d'allarme, c'era qualcuno in Cosa Nostra tra i vari rappresentanti dei vari mandamenti che aveva espresso critiche diciamo non ovviamente in serie ufficiale ma parlando con altri appartenenti a Cosa Nostra. C'era serpeggiava questo malumore o era latente cioè era una cosa che già in qualche modo si era espressa questa cosa che lei sta dicendo il fatto che ci avessi messo la faccia e il fatto che questo processo ormai era tutto deciso. Signor Procuratore ormai era tutto deciso e non poteva tornare fra l'altro non poteva nemmeno tornare indietro doveva andare avanti ormai come è andato sempre avanti facendo guerre a partire dal suo paese a scendere a scendere doveva continuare Sì però io le ho domandato se c'era qualche qualcuno se qualcuno aveva cominciato ad avanzare critiche nei confronti di questa leadership cioè se questa era messa in discussione Signor Procuratore in quella sera in quell'ambiente anche se qualcuno aveva qualche critica da fare non era non era l'ambiente l'ambiente adatto per fare critiche io mi ero permesso che non mi ricordo più che cosa di volere dire qualche cosa e mi ricordo perfettamente Raffaele Canci che aveva stato accanto mi ha dato una botta con le ginocchia nella gamba per farmi capire che state zitto e cioè poi successivamente diciamo che buona parte o una parte della commissione di cui penso anche Raffaele Canci e tanti altri se si aveva la la coniezione che si stava andando a sbattere contro il muro ma ero gli ordini erano ordini ormai ormai la decisione era stata presa forse anche a livello non solo di commissione provinciale ma probabilmente anche a livello di commissione regionale probabilmente anche anche oltre quindi nessuno poteva tornare tornare indietro e ripeto sabato a Rina non poteva più tornare indietro senta ma quando Rina prende questa decisione che trova diciamo il consenso come dice lei silente di tutta la commissione provinciale di Palermo lei sa se aveva esperito consultazioni cioè se aveva effettuato diciamo una sorta di verifica per capire se questa era una situazione sostenibile per Cosa Nostra cioè prima di dichiarare guerra allo Stato ci fu da parte dell'organizzazione Cosa Nostra una sorta di interlocuzione con altri apparati per capire se questa guerra sarebbe stata poi sostenibile è una domanda ossia non ci fosse difficile se poteva escludere questa una reazione dello Stato che poi avrebbe travolto questa organizzazione ma secondo me no però le chiedo un parere le chiedo se lei ha conoscenza di contatti che uomini di onore hanno avuto in quel periodo prima delle stragi io le posso dire di contatti a livello mafioso che avevano i contatti sempre con Madonia e Giuseppe con Catania eccetera eccetera se di altri di altri contatti non ricordo altri tipi di contatti tra il Rina e altri soggetti signor le chiedo Rina cosa nostra aveva contatti con istituzioni con la massoneria con appartenenti a istituzioni esterne a cosa nostra cosa nostra aveva dei contatti esterni ma questo era un discorso pubblico all'interno nostro e della commissione con delle logge massoniche tanto è vero che all'inizio che io cominciai a frequentare la commissione in una riunione il Rina ha fatto un appunto sulle logge massoniche dicendo che non vietava l'appartenenza di un mafioso a una luce massonica coperta o no però lo ha sottolineato le cose nostre sono nostre rendere e conservare quindi esplicitamente un contatto tra la logge massoniche e personaggio di cosa nostra prego signor procuratore senta cosa nostra americana lei sa se prima di prendere decisioni del genere cosa nostra americana vennero in qualche modo coinvolti in questa decisione per per quello che mi riguarda direi proprio di sì ci sono state dei contatti perché come c'è stato pure un discorso di polizia nella parte avversa di cosa nostra americana storia erano dei contatti con personaggi di cosa nostra in modo particolare siciliane che erano andate in che erano in America e i contatti Salvatore Rina non solo ma anche altre persone le avevano o lì avevamo diciamo questi contatti prego ci sono stati mai lamentele da parte degli americani dei mafiosi americani ci sono stati mai lamentele nei confronti di Giovanni Falcone del fenomeno del pentilismo che rischiava di coinvolgere anche le famiglie americane veda vi era un profondo malcontento da parte della mafia americana nei confronti in modo particolare del dottor Falcone se vado bene con la mia memoria una delle prime inchieste e forse è più importante che il dottor qualcuno ha fatto è stata quella della pizza con nation non vorrei sbagliare siamo attorno all'83 dove appositamente verrà ad essere messa alla luce buona parte buona parte ragionamento aveva creato degli agganci anche con la magistratura americana in modo particolare con quella americana cioè avevano creato un legame molto molto stabile non mi ricordo chi era il procuratore di allora che poi si è andato alla politica di New York con cui il Falcone il dottor Falcone era in se mi viene ve lo dico in perfetta sintonia e collaboravo giuliani penso perfetto prego senta io le voglio chiedere lei dice che a parte il colpo sotto al tavolo di canci insomma quella riunione finì in silenzio tanto per curiosità nostra per sapere se non ci fosse stato quel colpo al ginocchio che forse mi salva la vita che cosa avrebbe detto lei intervento automaticamente non è che posso dire oggi a distanza di tempo farmi che ci dicevo che ero contro Salvatore Rina questo è poco mi è seguro potevo dire non mi ricordo più che cosa potevo dire che ero disponibile che ero qualche cosa del genere o tutta più se aveva quelle quelle carenzie per sufficiente per insomma se sapeva quello che faceva dove andavamo incontro dove ci portava prego senta lei ha conosciuto il graviano ho conosciuto Filippo e Giuseppe Graviano in modo particolare Giuseppe Graviano che faceva parte della commissione di Cosa Nostra provinciale capo mandamento il mandamento era passato da da Ciaculle a non mi viene il nome a Brancaccio a Brancaccio perfetto in quel periodo diciamo che era portato avanti dai fratelli Graviano in modo particolare Giuseppe Graviano il rapporto con Rina era particolarmente stretto molto stretto ma diciamo che era stretto sia con Salvatore Rina che con Bagarella senta e tra Brancaccio e Aglieri che rapporto c'era tra il gradiano e Aglieri che rapporti c'erano se c'erano rapporti diciamo diciamo che rapporti vi erano persone del mandamento di Brancaccio che erano molto vicine a lei intende a Pietro a Pietro Aglieri fa riferimento a qualcuno in particolare Renzino-Tenerello in modo particolare ma direttamente quali fossero i rapporti fra i fratelli Graviano e Pietro Aglieri in grado di conosceva Pietro Aglieri e Carlo Greco erano storie che erano molto legate al Provenzano era altrettanto storia che il Graviano erano della creatura di Salvatore Rina avevano degli interessi diciamo territori l'emitrofe per quello che mi riguarda diciamo non ho sentito mai lamentare diciamo il né Salvatore Rina contro Pietro Aglieri Salvatore Rina in modo particolare l'aveva contro contro Chakul in modo particolare diceva sempre che se dipendeva da lui se dipendesse da lui con una ruspa distruggeva tutto e questo quando lo diceva questo lo diceva perché da quando diciamo 85 io nel periodo di rapporti quando in Chakul sono votate con la presenza di Greco Giuseppe detto Scarpuzzer cioè è stato uno dei personaggi che ha contribuito notevolmente diciamo all'ascesa del potere del del Rina che poi non se ne è saputo più niente che ha detto che Scarpuzzer era partito per l'America era scomparso e ce l'hanno ucciso poi c'è stato un susseguirsi di altre fatte l'ultimo è stato un susseguirsi diciamo di regenza del mandamento di Chakul fino a Lucchese Lucchese dopo la resta di Lucchese il mandamento è passato a Brancaccio anche se Brancaccio diciamo che aveva un potere enorme nel mandamento diciamo anche precedente a Chakul quindi avevano convivevano perché tra l'altro sia il Pietro Agliere che il Carlo Greco non erano persone che cercavano lo sconto che cercavano di accomodarsi poi diciamo che c'era Tenerello in modo particolare Renzino diciamo che avevano migliori attimi supporti Carlo Greco con Renzino Tenerello sono stati lasciati assieme per un periodo di tempo nella zona interna e così via di seguito prego signor Progueta senta lei ha sentito parlare di Scarantino io di Scarantino ne ho sentito parlare quando iniziò a collaborare innanzitutto lei ha conosciuto come persona inserita in Cosa Nostra io non ho conosciuto Scarantino non sapevo che fosse Scarantino ho avuto occasione di sapere di Scarantino che poi collaborava che fra l'altro non è nemmeno dei ricordi molto molto nitete molto chiare mi scusi come veniva commentata facciamo finire se a lei interessa quello se a lei interessa quello che ha intenzione di dire le farà la domanda da qui si vede meglio si era fermato proprio siccome era fermo se a lei interessa a me non interessava per cui quando toccherà a lei le farà le domande che riterà opportuno allora vabbè piuttanto una cosa ce l'ha allora torniamo a Scarantino signor Giuffret lei ne ha sentito parlare in cosa nostra è stato oggetto di contatti di colloqui all'interno di le riunioni nel corso delle riunioni la collaborazione di Scarantino è stata commentata dico da voi mi ha sentito signor Giuffret signor arrivo mi stavo bevendo un pochino d'acqua prego prego Scarantino era stato considerato un pazzo un povero pazzo perché? perché non sapeva quello che diceva e questo mi era stato confermato sia da Pietro Agliere che da Carlo Greco e tanto è vero che poi lo volevano fare passare per perché dice chissà ne sta consumando a tutti dice senza cioè loro stesse probabilmente non è che abbiano abbiano capito molto bene sta situazione loro stessi fa riferimento a chi? prego quando dice loro stessi mi intendo riferire sia a Pietro Agliere che ha Carlo Greco nei commenti che lei raccoglieva da parte di Greco e di e di di Aglieri c'era riferimento al fatto che queste dichiarazioni erano imprecise false ma se era considerato un pazzo che hanno cercato loro stesse ora io i particolari nemmeno me li vado a ricordare mi ricordo che un giorno è venuto a cercarmi Carlo Greco mandato da Pietro Agliere dicendomi che lo scarantino frequentava la vetrana un albergo era sì un lido diciamo dove in estate andavano a fare i bagni è un albergo dove diciamo un albergo che veniva usato anche per delle scappatelle diciamo e che sarà e che sarà coniugale e ora se la memoria non mi inganna Pietro Agliere mi mandò a dire di fare parlare con il gestore dell'idovegiana il cognome non me lo ricordo il nome si chiamava Guglielmo di cui era molto legato con Mimmo Rangatore e Tutuccio Sinello in modo particolare con Mimmo Rangatore che era il figlioccio per fare sparire mi sembra il nome del dello scarantino dai loro registri in modo che se ora avevo vato bene avevano cominciato a insonuare che fosse un gay che quindi poteva essere un mafioso e quindi non sapeva che cosa dire poi nel discorso diciamo no non io guardo altro signor no procurato